Un gravissimo lutto per la calciatrice spagnola Olga Carmona. Pensate infatti che la campionessa di 23 anni di età ha dovuto rimandare i festeggiamenti della vittoria nei mondiali di calcio femminili vinti dalla Spagna stessa dai fuoi rossi perché, punto interrogativo, perché purtroppo di recente è morto l'amato padre. Il parola infatti si è spento. Vi ricordo che la ragazza in questione ha segnato al 29esimo minuto di gioco contro l'Inghilterra. La ragazza è rimasta atturbata, scioccata, ha voluto pubblicare un composto in cui ha ricordato l'amato padre con una dedica commovente dove letteralmente si commuove. La notizia di partita del padre è venuta a mancare venerdì, però è stata data dopo i mondiali. Una vicenda incredibile. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Questo video ovviamente non vuole, ripeto, non vuole leggere la frase di Olga Carmona ma né di altre persone, ma solo informare eventuali esseri umani di quello che è successo. Punto e a capo. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano Commentare. Un calcio di saluto a voi, Olga Carmona. Ti saluto.